Allenamento di rifinitura quest'oggi per i ragazzi di Giampiero Gasperini, torna la Champions League e torna anche il protocollo UEFA per la prima giornata uguale a tutte le altre, ovvero alla vigilia conferenze stampa e allenamento aperto per 15 minuti a stampa e televisione. In questi 15 minuti Giampiero Gasperini ha mischiato un po' le carte effettuando delle partitelle a ranghi misti, peraltro da segnalare in grande evidenza, Wes Snyder autore di alcuni tocchi davvero pregevoli. Per quanto riguarda invece le sedute di recupero, Castellazzi ha svolto la prima parte del lavoro con i compagni, sedute invece personalizzate per Caldirola, Kivu, Cordoba, Maicon, Tiago Motta, Poli e Viviano, vale a dire gli infortunati. L'allenamento si è svolto questa mattina, poi pomeriggio libero, ritrovo in serata da piano per la cena e quindi il ritiro, la lista Champions League obbliga le convocazioni di Giampiero Gasperini che ne chiama 20. Tutto questo, l'allenamento di quest'oggi, interviste esclusive e interazioni con i protagonisti del mondo neroazzurro, lo trovate su Interchannel, canale 232 di Sky, abbonatevi.